E' un momento di grande revisione all'interno della maggioranza al comune di Teramo. Dopo la mossa sorpresa della vice sindaco Maria Cristina Marroni, che con altri due consiglieri, Luzzi e Di Teodoro, ha lasciato la lista civica Teramo 3.0 per aderire a Italia Viva, gli equilibri politici sono destinati a mutare. E anche se la Marroni promette fedeltà ad Alberto, quest'ultimo, piuttosto deluso, non sembra fidarsi affatto, soprattutto poi del leader locale dei Renziani, l'ex parlamentare rosetano Tommaso Ginobile. Il sindaco d'Alberto decide dunque di chiamare tutti, opposizione compresa, ad unirsi con patti intorno ai futuri grandi progetti che segneranno la storia di Teramo Capoluogo, ospedale, ricostruzione e camera di commercio. Così lancia un appello politico destinato ad aprire un nuovo capitolo nell'amministrazione della città, con nuovi equilibri e nuovi protagonisti. Mi rivolgo a tutte le forze civiche e democratiche presenti dentro e fuori del Consiglio Comunale, a tutti i partiti che condividono i nostri valori e i nostri obiettivi, scrive in una lunga lettera d'Alberto, per dare il via ad una nuova fase dell'azione politica e amministrativa del nostro comune. Un nuovo inizio in cui tutti abbiano pari dignità e cittadinanza nella definizione dei percorsi e delle decisioni future. Parole queste che fanno supporre l'intenzione del sindaco d'Alberto di voler allargare la propria maggioranza politica con il gruppo di Mauro di Dalmazio, Giovanni Cavallari e Cinque Stelle, oggi all'opposizione, per poi procedere ad un rimpasso di giunta, magari dopo averla zerata completamente. Se così dovesse andare, una parte dell'opposizione attuale in Consiglio Comunale diventerà maggioranza ed entrerà in giunta. Al contrario, Italia Viva, oggi maggioranza, perderà il suo vice sindaco Marroni e passerà all'opposizione. Per Dalberto, l'obiettivo prioritario è comunque quello di avere ampio consenso politico per attuare celermente le future scelte in favore del territorio.